Ecco l'altra mia tartarughina che sta facendo, la tigre, lei dice che si sente una tigre. Esatto. Ti senti la tigre? Sono io che sto uscendo dal piatto, proprio. Io invece mi sento un tigrotto, un cucciolo di tigrotto mi sento. Io mi voglio proprio sentire questa tigre qua. Oh là, bello, mi piace come sta venendo, bravissima così e poi procediamo, ok, bravo. E adesso qua invece c'è la mia new entry che sta facendo acquarello, adesso la sto facendo annoiare con l'acquarello base, ma abbiamo già deciso, beh, che faremo giusto 4-5 quadratini per poi passare subito al paesaggio. Ragazzi alla prossima, dalla Patti, l'artista sempre in pista, ciao!